Buon appetito a tutti e a tutti amici benvenuti in Spibo e a me sono Salvatore come sempre come state spero tutto bene ragazzi oggi seconda parte del nostro box bellissimo di eredità perduta lo facciamo vedere sembra ancora serie ma c'è un segreto e adesso quando metteremo le mani ve lo far vedere prima di iniziare ragazzi voglio ringraziarvi per il contributo che avete dato all'ultimo video di Forsoville grazie grazie mille per le visualizzazioni le iscrizioni i commenti grazie mille ancora veramente ragazzi questa espansione l'abbiamo spiegata un po' prima quindi se non avete ancora visto il video recuperato non ve lo metterò nelle schede quindi è un'espansione molto molto bella ragazzi se non abbiamo pullato ancora le carte più cicciose cioè le vere carte cicciose sono due mi sono documentato per bene la 58 e la 58J che sono le carte più difficili anche da trovare poi mi sono informato per bene su queste carte qui che ci sono uscite l'altra volta queste fonti retro avevo detto che magari potevano essere ultra rare non è così sono carte che queste qui fonti retro nello specifico ce ne sono tre ne abbiamo la 2 e la 3 ce n'è un'altra che non abbiamo ancora pullato che è la prima poi questo box è da 105 carte poi ce ne sono altre 5 che sono diciamo parallele si chiamano proprio così le rare parallele foil che sono delle carte uguali a una delle 105 non ricordo bene i numeri ma sono uguali solo che sono con un altro artwork e sono tanta tanta roba sono 5 sono molto molto difficili da trovare queste carte ragazzi sono identificate con dovrebbe essere una letta il numero e la J forse dovrebbe essere così un po' l'identificazione poi poi l'identificazione poi sono 105 se ho qui bisogna trovarle tutte non ho fatto ancora la conta perché sono registrato di seguito quindi non ho fatto ancora il conto di quante carte ci mancano praticamente ci mancheranno ancora penso una settantina di carte quindi ma bando alle ciance passiamo alle mani allora qui c'è un piccolo trucco sembra si led ma non lo è ho fatto in modo da conservarlo perché poi lo conserverò per bene in camera eccolo qui abbiamo sempre l'artwork pazzesco prendiamo le nostre 11 bustine 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 la prossima volta faremo il video conclusivo dove ne spacchetteremo ancora di più ricordo che una è nelle mie mani e non la spacchettirò perché la conserverò mettiamo da parte sono un maniaco dell'ordine quindi devo avere tutti l'ordine quindi queste qua le mettiamo qui e forza andiamo apriamo 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 forse quelle che bustine hanno questa tecnica che si aprono così è vero è una mia cosa ok dovrebbe essere il trick da 4 quando non c'è riuscitola perché c'era quella parallela particolare spero che non trami troppo il tavolo andiamo pietra assassina non ce l'abbiamo e si parte alla grande incubo il sogno del cinereo ce l'abbiamo già quindi no il sigillo della barriera non ce l'abbiamo ottimo l'uan non ce l'abbiamo yashamaru si rimbalzo magico non ce l'abbiamo e l'artwork è veramente un qualcosa di incredibile anzi ragazzi io nel primo video di forza unico portato sul canale vi dissi siccome dicevo sempre le stesse cose dissi che il modo per identificare queste carte visto che non volevo diventare troppo ripetitivo era il nostro che identifica un livello superiore al bellissimo ok andiamo rimbalzo magico e se mi sentite qualche volta a passo perché in realtà è un tono di voce molto molto basso e praticamente urlo quando registro fata della ricorrenza non ce l'abbiamo soldato illusorio di mojart ce l'abbiamo si pescatore pescare pescatore pescare foil non ce l'abbiamo ehi grande sette nani foil non ce l'avevamo ce l'abbiamo solamente comune intanto passa il treno ciao andiamo avete visto che abbiamo beccato il trick uno due tre quattro sotto vai ce ne sono alcune bustine che prima toccandola erano molto molto spesse ok andiamo pietra magica di luce pazzesca non è foil però si lo sembra in realtà si è foil ragazzi vabbè la metteremo qui e poi andrò a controllare pietra magica vivente ce l'abbiamo ritrovo di luce e vento forse no drago dalla bellezza scenica che è molto 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 sogno ingannevole dovrei fare valiente sempre così ragazzi queste carte sono incredibili luna di sol ok dovrei lavorare per forse wille per quanto sponsorizzo queste carte non mi pagano mi giuro che non mi pagano spirito di luce ce l'abbiamo morte a mezzanotte molto bella e non ce l'abbiamo kaguya ricercatrice lunare non ce l'abbiamo quindi ottima cosa e kirin splendente ce l'abbiamo ma comune quindi ottima ottima cosa e la mettiamo qui poi ragazzi vi ricordo sempre che noi cerchiamo ricordo sempre il 9 no perché noi cerchiamo sempre la 58 e la 58 e la 58 j che sono praticamente la sovrana delle bestie faria e glorius che sono quelle là veramente veramente ci sono invito ragazzi un po' gli esperti diciamo del campo di forse wille di aiutarmi in questi video anche per far emergere un po' più il gioco di caccia alla fine della collezione non gioco a livello competitivo quindi non vi si apre aiutare però per far uscire un po' questo gioco tra l'altro mi ha scritto un ragazzo un paio di video fa di forse wille dove diceva che lui era un giocatore di forse wille e che nei primi 4-5 anni dall'uscita in Italia del gioco si era portato molto era un gioco molto in voga e poi era finito invece scomparso è finito un po' tra l'altro non è dimenticato io piatra magica bestia divina di attoractria che ce l'abbiamo mago cavaliere dell'alma ma veramente gigante del grattacielo bellissimo ragazzi bellissimo Yashamaru spero che si veda bene non sto troppo lontano Yashamaru ce l'abbiamo già 500 proiezione illusoria fascino di Bastet ce l'abbiamo sacerdote della protezione divina ce l'abbiamo sì tecnica segreta della grus balesta e forse abbiamo comune e ne abbiamo un'altra grus balestra ricercatore di pietre magiche che è veramente ragazzi di che parliamo andiamo questa è molto spessa rispetto alle altre lo sapete mi sono accorto anche prima quindi questa qua ragazzi ci darà la nostra faria ragazzi sono pessimo lo faccio pure con i pokemon veramente sono pessimo infatti alcuni alcuni nei commenti mi richiamano sui nomi che sbaglio vediamo un po' in giro però ragazzi sicuramente non mi ricordo i nomi 1 2 3 4 andiamo tutto faccio sempre questo è qui dove mettiamo di qua e andiamo pietra magica di vento farfalla del raggio lunare di kaguya non ce l'abbiamo penso komomaru non ce l'abbiamo monocolo sì anche un paio komainu ce l'abbiamo forse anche no forse no normale bestia della luce sacra non ce l'abbiamo soldato scelto non ce l'abbiamo messaggero sì ce l'abbiamo anche anche foil bestia sacra del vento non ce l'abbiamo quindi ottimo e maledizione del kiubi che mi ricordo un po' naruto che è tanta roba tanta tanta roba ragazzi foil quindi ottimo queste anche molto spesse in realtà forse sono tutte così spesse ma non mi sono mai accorto 1 2 3 4 e c'è uscita ragazzi c'è uscita un'altra di quelle fatemi controllare la 65 esattamente ragazzi è una di quelle rare dove però la ricitura è nessuna rarità quindi è un po' un controsenso però sarebbe una parallela e e sì ragazzi è una parallela questa qui decisamente Valentina terrore diffuso sì e sì Valentina demone invasore dell'acqua sì è proprio quella ragazzi è una speciale tra virgolette quindi tanta tanta roba era molto difficile trovarle molto molto difficile sono molto molto contento dico tante volte molto 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 andiamo quindi il trick penso sia saltato ragazzi che quando escono queste carte qui un po' si sbaffa tutto pietra magica rachel gisaing ma è vero il pescatore ombra di lapis kaichi dal corno bianco stregore dell'illusione che ce ne abbiamo mille kirin anche grifon corsa dell'oscurità che è un po' il nostro amico grifone piantare fagioli ce l'abbiamo forse anche fuori ce l'abbiamo non vorrei sbagliare però forse anche fuori questa sembrava cicciosa avevo detto che infatti è uscita quella non è assolutamente l'aria perché l'altra ho detto la stessa cosa non è uscito niente andiamo mettiamo a terra uno due tre e quattro forza pietra magica della vaporizzazione non ce l'abbiamo non è vero brezza finale forza del vento Jack ha l'appicatore della pianta di fagioli penso sia un ladro e ha anche un gallo o una gallina perdonate non riesco a capire ancora che è tanta roba bestia sacra del vento ce l'abbiamo morti a mezzanotte speriamo di no ce l'abbiamo sacerdote ce l'abbiamo che tra l'altro mi sembra una donna sacerdotessa però bestia non ce l'abbiamo Nidog drago dimensionale ok ragazzi che cos'è questa carta sembra è molto oscura perciò forse voi dalla ping pong a caverna non la vedrete però credetemi e yashamaru foil che ci serviva perché ne abbiamo tipo 500 comuni quindi ti prego yashamaru dacci pace andiamo ancora forza 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 cerco di fare più veloce possibile però le bustine sono tanto quindi 1 2 3 e 4 scrivetemi nei commenti il prossimo box che andremo a comprare di forza wille perché penso che ne compriamo un altro pietra magica di luce bestia divina paludi di origine magica che non abbiamo ottimo sorriso di rachel ce l'abbiamo è un po' il mio sorriso pescare ce l'abbiamo in millemila modi questa no comune comune ok ah quindi questa qui qua c'è scritto è super rara non credo però vabbè controllerò dopo tecnica segretta della gus balestra la leggea sta controllando un ottimo della vita bestia segretta del vento fata della ricorrenza e arma di millennium urle senza motivo e poi bella questa ragazzi Yashahime prima figlia di Mikage tanta tanta roba questa era 39 rara tanta tanta roba ragazzi comunque quella dovrebbe essere una super rara perché SR dovrebbe essere super rara non sembrava però dovrebbe essere super rara questa invece è una rara e forse questa ragazzi ora che mi rendo conto è una U quindi dovrebbe essere un'ultra rara non ci sto a capire più niente ragazzi escono praticamente ogni volta delle carte diverse nuove che non mi hanno documentato più e quindi mi trovo praticamente sorpreso sempre forza 1 2 3 e 4 andiamo sotto ancora dobbiamo beccare le nostre carte che cerchiamo la 58 mi raccomando bella questa rinca super rara e questa si vede ragazzi perché tanta 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 roba tanta roba davvero questa è una rara Giovanni Dark is 2 sempre un riferimento a una citazione di Mike Shosh Drago della bellezza Folgole nera dell'Almat pazzesca Isticatore diabolico Antica Amministra dice che ce ne abbiamo 500 Morta a Mezzanotte anche Foil Spirito Caterizzatore che forse abbiamo però non ricordo questa non ce l'abbiamo Achiot Demone Comandante Runico che sembra brutta ma credetemi non lo è e Raggio Scarlatto ragazzi questa è Foil però mi dice che comunque è una comune quindi secondo me il fatto di essere Foil non cambia poi così tanto e dovremmo rivedere quindi le nostre priorità le ultime tre speriamo ragazzi di beccare la 58 dai 1 2 3 e 4 becchiamo andiamo allora pietra magica non beccheremo niente qui ragazzi perché incontro predestinato che è tanta 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 credetemi Jack ce l'abbiamo già il ladrone Luan ce l'abbiamo già arma di millenium anche Foil spirito di luce ce l'abbiamo soldato illusorio anche cavaliere benedetto ragazzi i dettagli delle carte sono veramente una cosa pazzesca veramente ragazzi i dettagli è un manga questo ragazzi è un manga poi andiamo una super rara fishing eventi vorticosi del destino qui è ching forse che è una super rara e non si direbbe perché è molto normale e qui abbiamo rimbalzo magico che invece c'è una porta come comune quindi secondo me è una comune foil questa qui ragazzi sto iniziando a pensare che è una comune foil ci siamo documentati nel frattempo andiamo 1 2 3 e 4 ci si aprirà 58 ragazzi se vedete 58 bisogna caricare come i tori vai pietra magica pietra magica vivente ce l'abbiamo fantasma di attoractia ce l'abbiamo barriera antica ce l'abbiamo piantare fagioli ne abbiamo 500 pescare anche basta ce l'abbiamo scruzzolati antica amministratrice ce l'abbiamo arma di millennium anche soldato illusorio sì stiamo qui e abbiamo alfred ammiraglio guida del tempo che è un manga praticamente questa carta è un personaggio di un manga ed è una rara quindi tanta roba tanta tanta roba però la 58 non è uscita ultima ragazzi speriamo di beccare la 58 una delle due o forse quella è fonte la forse non so se sono due carte divise oppure no forse 1 2 3 e 4 non uscirà niente ragazzi qui perché pedra magica evocazione della fiamma del mondo non ce l'abbiamo e quindi siamo contenti folgole ce l'abbiamo previsione questo è il numero 2 ottimo riuscito ma ce l'abbiamo forse cavaliere benedetto ce l'abbiamo anche foil protezione illusoria ce l'abbiamo forse soldato scelto di altea si messaggero millemila rula di sol ce l'abbiamo anche se foil e poi no non è la 58 ragazzi ma è solo la manticora che molto molto però non è quella che ci serviva non è quella che cerchiamo tra l'altro è la 90 è tanta roba è una rara ma non è quella che noi stiamo cercando ragazzi abbiamo beccato tanta roba tanta tanta roba carte veramente pazzesche abbiamo beccato questa qui questa è un'ultra rara questa è una rara spero non mi non mi non mi giudicate male se sbaglio praticamente la rarità delle carte ragazzi abbiamo finito io io vi lascio ci vediamo al prossimo video di forso will dove praticamente finiremo questo box e quindi saremo già proiettati per il prossimo box e speriamo compriremo presto vi lascio ci vediamo alla prossima ciao ciao